Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei Salieva Rapace GTX, uno scarpone famosissimo di Salieva che mi avete chiesto in tantissimi di provare ed eccoci qua a qualche mese di distanza con la recensione completa in cui vediamo pregi e difetti. Iniziamo come al solito dal peso, taglia 42, questi Salieva Rapace pesano 740 grammi, nel mio 47 arriviamo a 920. È un peso normale, nella media come tanti altri scarponi d'alpinismo, quindi ci sta, non da dire peso va bene. Iniziamo come al solito a parlare della suola, in questo caso troviamo una suola Vibram, una suola Vibram molto dura nel senso che è un compound che andrà a deteriorarsi molto difficilmente e quando l'avrete finita potete anche farla risuolare senza nessun problema, costa solo 60 euro direttamente da Salieva. Suola che essendo così dura non ha un grandissimo grip su tutto quello che è il bagnato, ovvero su tutto quello che è roccia bagnata dove serve proprio il compound, non tiene tantissimo e sul fango si potrebbe fare meglio perché comunque il tassello non è così pronunciato. Per il resto, per quanto riguarda camminata normale, camminata su roccia asciutta, camminata anche su un pochino di neve, ci stiamo, non abbia nessun problema. Mi piace molto nella parte mediana tutta questa zigrinatura fatta da Salieva perché comunque evita che ci possa formare uno zoccolo di neve se andiamo a utilizzarle nel periodo invernale. Quindi davvero un bello scarpone considerato il fatto che visto che è d'alpinismo e anche un pochino per l'arrampicata abbiamo sulla parte anteriore anche la famosa climbing zone per quando dobbiamo andare a spingere di punta. Passiamo ora a parlare dell'intersuola, un'intersuola con un drop addirittura di 15 mm, ma caratterizzato da un'ammortizzazione veramente molto efficace. Un'ammortizzazione che vi assicuro ho utilizzato questi scarponi per delle escursioni da 25 km in questa stazione fuori una decina di ore e non ho avuto nessun tipo di problema al piede. Davvero? Vabbè, naturalmente essendo uno scarpone rigido il piede si stanca e soprattutto quando andiamo a camminare su terreni molto facili per diverse ore lo sentiamo particolarmente. Però molto meno rispetto ad altri tipi di scarponi altrettanto rigidi. Come dicevo rigidità questo perché insieme all'inserto in TPU nella parte posteriore possiamo anche andare a calzare un rampone semiautomatico. Io ci ho provato, il rampone lavora tranquillamente, ci si potrebbe fare delle escursioni alpinistiche facili, nulla di troppo complicato, però comunque col rampone lavora abbastanza bene. Passiamo ora a parlare di tutta la parte superiore iniziando dal puntale. Vabbè, scarpone da alpinismo abbiamo un puntale rinforzatissimo, davvero un puntale col quale possiamo letteralmente prendere a calci i sassi e non sentiremo assolutamente niente. Mi piace poi tutto il fascione in gomma che corre a 360 gradi attorno allo scarpone. Questo perché va a proteggere molto tutta la parte della tomaia. Tomaia in pelle di Nubuk, quindi una tomaia abbastanza calda, secondo me poteva essere un pochino più traspirante soprattutto per il periodo estivo. Tente conto che poi è una pelle spessa 1.8 mm, quindi ha anche il suo bel spessore e naturalmente abbiamo anche una membrana in Gore-Tex Premium Comfort, una membrana che non fa entrare per nulla l'acqua, quindi anche qua comunque una tomaia e uno scarpone pensati molto bene di casa saleva. Continuiamo, arriviamo a parlare della zona del tallone. Allora la zona del tallone è decisamente strutturata nella parte inferiore naturalmente perché poi bisogna anche di utilizzare un rampone ed essere strutturata. Non ci fa prendere svirgolate, non ci fa fare questo movimento e quello è molto normale. Mi piace poi che va a destrutturarsi fino ad arrivare a essere veramente molto molto soffice nella parte posteriore, soprattutto qua nel tallone. Mi piace molto così soffice perché davvero quando andiamo a camminare per tante ore su terreni abbastanza facili dove uno scarpone del genere è abbastanza difficile da portare, vi assicuro che fa la differenza. Fa la differenza tra tornare a casa con un piede completamente distrutto e sofferente e un piede che si magari ha i suoi acciacchi ma non è messo male. Quindi veramente pensato bene il tallone e poi mi piace tutta la parte imbottita che è presente qua sul tallone perché davvero anche quando andiamo magari a camminare un pochino col piede laterale su qualche traverso sentiamo comunque che abbiamo un buon sostegno. Per quanto riguarda il tallone poi facendo riferimento anche tutta l'allacciatura abbiamo tutto il sistema 3F di saleva, l'avevamo già provato su altri modelli, funziona sempre molto bene, è costituito da un cavo in acciaio che va a tirarsi quando noi andiamo a serrare il primo passalaccio nella parte inferiore e per il resto insieme poi a tutti i lacci il piede all'interno sta veramente molto ben serrato. Per quanto riguarda i lacci mi piace molto che il primo laccio sia praticamente in punta al piede quindi abbiamo un'allacciatura dove possiamo serrare molto bene il piede in base al nostro piacimento e mi piace anche il fatto che abbiamo il primo inserto che è autobloccante quindi possiamo avere una differente pressione dei lacci nella parte inferiore e superiore. Poi per il resto l'accio mi piace il colore fosforescente però questo è proprio gusto personale e per il resto anche la parte superiore lavora decisamente bene. Per quanto riguarda la linguetta questa è classica molto imbottita svolge molto bene il suo lavoro troviamo una parte in pelle anche qua nella linguetta in alto che va a proteggerci ancora di più dai lacci non si muove non sentiamo pressione dei lacci quindi davvero una linguetta normale fatta bene tranquilla. La soletta all'interno è di casa saleva è un po' particolare nella forma ma funziona molto molto bene anche se dovesse entrarci dell'acqua abbiamo il piede sudato il piede non scivolerà quindi soletta anche lei fatta molto bene. Tiriamo le conclusioni per questi saleva rapace gtx prezzo siamo sui 250 euro sito ufficiale saleva online essendo uno scarpone anche di un paio di anni fa se non ricordo male lo troviamo decisamente meno su amazon molto spesso lo troviamo in sconto anche a 150 euro. Secondo me tenuto il conto di un prezzo facciamo sui 170 che è un pochino la media che lo troviamo è davvero un ottimo scarpone è uno di quegli scarponi un po' tuttofare che io consiglio che io vi consiglierei se dovete comprare uno scarpone avete solo quel budget. Naturalmente come vi dicevo se fate escursioni troppo facili non va bene perché con tutta la parte rigida è uno scarpone abbastanza difficile da portare ma pensando di fare ogni tanto roccia magari qualcosa di alpinismo facile magari qualcosa intanto anche da arrampicata o comunque dei passaggi un pochino impegnativi anche con delle catene o delle vie ferrate questo scarpone va decisamente bene. I materiali come dicevo molto buoni davvero è uno scarpone molto duraturo la pelle non si è andata a strappare da nessuna parte complice il fatto che possiamo risuolare anche la suola davvero possiamo andare avanti a usarlo per tantissimi anni quindi ragazzi che dire io non lo consiglio ai principianti quello sicuro diciamo persone intermedie esperte però per il resto mi è piaciuto tantissimo come scarpone è davvero uno di quegli scarponi che calzi alla prima uscita e vai avanti i dieci anni a utilizzarle senza avere quasi mai nessun problema. Detto ciò ragazzi una speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questo video vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo ciao Ciao!